Volevo dire solo una cosa, io ho lavorato al signor Diasioli che mi ha detto che mi piacerebbe anche portare e fare qualche cosa in quel tipo di uno. Volevo dire che qui abbiamo concluso dicendo che è impossibile che una persona che viene dall'esterno non calpissi in opera e in negozio. Vado oltre, siccome io come tanti colleghi che ci troviamo in montagna, qua davanti ne ho tanti, e amiamo le nostre Belomiti, la stessa cosa si può dire, è impossibile andare in posto negli Belomiti senza passare sopra un ponte di miozio, quindi per continuità, bisogna essere onesti e dire che qua l'abbiamo detto per Venezia, siamo a Venezia, però in effetti è vero anche qui.